L'onestà indica la qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale e trasparente, in base a principi morale universalmente validi. Questo comporta l'astenersi da azioni riprovevoli nei confronti del prossimo, sia in modo assoluto e sia in modo in rapporto alla propria condizione, alla professione che si esercita e all'ambiente in cui si vive. L'onestà si contrappone ai più comuni disvalori dei rapporti umani, quali l'ipocrisia, la mezzogna e il segreto. Io mi sono chiesto cosa fosse l'onestà e poi ho pensato a quello che abbiamo fatto in questi anni. Allora è onestà dire in campagna elettorale che noi rifiuteremo 42 milioni di euro di rifinanziamento pubblico ai partiti. Essere eletti e rifiutarli! Questa è onestà! Ma vi chiedo, è onestà utilizzare un volo di Stato a 9.000 euro all'ora per andare a prendere i propri familiari e portarli in vacanza per una settimana bianca a Courmayer? È onestà? No! Non è onestà! È onestà invece dire alle persone in campagna elettorale che avresti rifiutato metà del tuo stipendio, metà della tua indennità per darlo alle piccole e medie imprese e poi vieni eletto, rinuncia allo stipendio e riesci a creare un fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese. Grazie!